siamo in compagnia di tiziano guardini nel backstage della sfilata ss 2019 milano moda donna ciao tiziano e benvenuto grazie ci racconti prima di tutto quello che è un po l'ispirazione della nuova donna è un'ispirazione sicuramente che è legata alla natura faccio moda sostenibile quindi sicuramente racconto questa emozione che è costante nella mia vita e in questo caso racconto di questo viaggio di questa bolla emozionale che è un'isola tropicale in cui c'è veramente tutto sorriso c'è un fallo sulla spiaggia ci sono un tuffo in acqua e tutto in chiave diciamo estremamente pop colorato è un viaggio quasi surreale però c'è questa connessione con la natura e con gli elementi stessi come credi che ti abbia aiutato l'innovazione tecnologica in questa scelta appunto di sostenere una moda sostenibile è fondamentale nel senso comunque puoi arracciare determinati materiali e perché dietro c'è una grande ricerca tecnologica oggi riesco ad utilizzare un nylon che viene dal recupero delle reti da pesca in materiali di plastico in mare che aiuta a pulire i mari dal tutto che è stato lasciato lì quindi grazie alla tecnologia riusciamo a fare tutto questo ho uso, riesco a trovare un pic che viene dall'olio di ricino quindi da questa diciamo lavorazione e questa tecnologia che trasforma questo tutto questa pianta che a differenza del cotone per esempio ha bisogno di pochissima acqua quindi riusciamo anche in questo caso a creare un prodotto più sostenibile che emozione ha essere qui grazie a Mercedes-Benz? guarda un'emozione grandissima perché essere selezionati da un brand diciamo così internazionale attento allo stile è sicuramente un grandissimo pregio e un grande onore anche proprio per il mio lavoro un segno di qualità Tiziano grazie e buona sfilata grazie